Nuova vita e nuova gestione per il piccolo teatro di Villa Potenza. Il teatrino della frazione di Macerata, gestito per anni dall'associazione Teatro Rebis, prenderà il nome Elvia Recina 2000 e sarà curato dalla locale associazione di volley in collaborazione con la Rainbow e la Proloco di Villa Potenza. Con il taglio del nastro di mercoledì scorso si è aperta una stagione ricca di attività e iniziative per tutte le età. Presentati nel corso della serata inaugurale i corsi di danza, giocodanza e creodanzando, danza moderna, hip hop musical e la novità assoluta del tango argentino che si avvalgono della collaborazione con scuole e insegnanti del territorio. Il corso di teatro per bambini e ragazzi sarà promosso dalla compagnia CTR di Macerata. Nel corso dell'anno saranno inoltre promossi incontri, dibattiti, seminari e conferenze. Nei weekend sono previsti stage e workshop con ballerini e insegnanti nazionali e internazionali. La struttura, come nelle intenzioni iniziali dell'Elvia Recina 2000, sarà luogo di incontro e socializzazione e per questo sarà a servizio delle famiglie, dei bambini e del quartiere. In particolare saranno organizzati laboratori di lettura, ceramica creativa e teatro.